C'è Moreno? C'è? Eccolo qua. Buonasera, benvenuto. E Gianfranco Ferraro. Gianfranco Ferraro, ecco di qua. Dipesa, ce ne sono altri. Loro due sono voluti venire e hanno effettuato a livello 75 donazioni. Quindi una spilla d'oro di rubino, una gliela consegnerà il Presidente e una gliela consegnerà il Sindaco, ovviamente. Prego.